Eeeh... Eeeh oh eeeh ah! Aspetta aspetta, faglielo fare! Vai, vai! Eeeh... Andrea... Eeeh... Sei forte! Grande! Benvenuti a questa nuova puntata! Andrea che l'avrebbe salutato all'accelentano! Guarda cosa ti dicono le farfalline! Si, nello stomaco... Canta! Canta! E... Balla! Canta che ti passa! Canta egli... Gli uccelli? Ah vedi? Ti... Ti seguiranno! Fuoco! Si, c'è il fuoco! Degli una scorreggiata che magari... Ma la fiammata! Eeeh... 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 Ma fa gli un pezzetto in faccia quello! Eeeh... Scusa! Eeeh... 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 Dai! Eeeh... 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 sono a sentire adesso adesso mi faccio fulminare in possesso di lui ma porca non puoi cantare che c'è certo che il volo per cavalcare elum c'è mi cavalca anche gli elum sto qua se migliori un grosso che non è mai lui come fuori un po io non so ma devo saperlo sono dei chiediglio entra 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 e dentro anche tutto no forse non era molto giusto c'è una bomba che non esplodono le bombe infatti dunque se mi metto qua ali e c'è anche il tipo d'oro ecco ora ora l'ho sbloccato vai vai devi tornare per forza dire no no l'hai bloccato volevo saltare volevo fare il salto con ma tra l'altro lì mi sa che non si riesce a saltare si si ci riusciamo per forza secondo me no vabbè noi andiamo lì per un motivo e fin qua ci siamo sblocchiamo quello quindi bisognerà tornare qua no te ne hai mai visto i tappi non serve a niente e salire su dall'altra parte no perchè fai cazzino saltando la bomba dici? eh no si appena salti la bomba purtroppo se salti la bomba basta vai 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 via no trottolo trottolo lollo è quello comunque bisogna attivare quella bomba ne provo una tappina diversa tappina diversa? si voglio provare a vedere cosa serve attivare quella leva lì eh ma come fa? cioè devi devi c'è dopo là c'è il ciccio come fai a tornare? no il checkpoint è così no provare a provare a provare tanto c'è il checkpoint si è vero il tubo e la soluzione era quella? venga io vi do ammone venga vedo venga vedo e adesso? no non c'è niente da fare là cioè boh io salto non faccio il salto della fede adesso non faccio il salto della fede ah 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 eh vanno esplodere vanno esplodere vanno ancora per l'altro no adesso torta di tornare indietro si 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 ho capito Sblocchi, torni su, macello Salta su, salta su invece di Ok, questo è morto Diciamo che abbiamo un po' più di strada libera Ma il punto è Allora, io vado qua Così non faccio niente Salta su quella Che sembra una leva che tiri Ah, eccoci Oh, ah sì, è quello che salto Bellissimo No, ehi, ehi Adesso salta, salta, salta adesso Però fai un salto Eccolo Che vola questo Bellissimo, bellissimo Hyperbomb Basta Si, c'ha l'accelerazione C'ha Long run Stavi rischiando troppo Long run questa I fail Che bello, che bello, che bello, che bello Scorreggia 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 Perché devo scorreggia Magari funziona C'è il turbo Quindi in teoria non si vuole neanche uccidere il tipo centrale Tecnicamente no Vabbè sì No vabbè sì Su uccidere lì quello sopra no Sì A parte che quello sopra Devi farlo scendere Ah, l'ho fatto Ma perché Te ormai siete il tecnico Dello schmutz Dello schmutz 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 Vabbè io tanto muoio al primo salto quindi Vabbè quello è un dettaglio secondario Ok Così si salta Così sbatti contro il muro I can't do it I can't do it Al primo colpo Oh mamma Così Andata Andata Usiamo Usiamo Nel nostro micro Sì sì Finché c'è Oh Mettiti a cantare lì poi Vai A quel paese In Francia Cerca Fideli Anelli Ma scusa F F Spirituali Annelli spirituali Devi trovare Basta Dobbiamo salutarlo Ah no ecco Bravo Portatelo giù Eh Quello bisogna sfondarlo Dici Secondo me sì Con lo smog Con lo smog C'è un po' di smog Mi sa che non pecava il carro No Ah ecco ti segue Bravo No Non è uno smog Non è uno smog da sfondamento No Mi sa di no Canta Vedi un po' se si fa Ragazzi Sta cantando No niente Va bene Amici Amici Saluta lì Saluta lì Saluta lì Si saluta così con lo smog Mi sa che qua bisogna fare il sacrifice Nooo Sacrifice Perché? Ma no Non posso crederci Sacrifice Sacrifice E come fai? Con lui salti Salta stralto Ho capito ma Guarda che lo salti quello Ah no Ma se no che vuoi poter andare giù Che se ne fegna andare giù Andiamo Andiamo smigol Smigol Oh Vedi Adesso Eh infatti Devi andare Andare lì sopra No No Sacrifice E come fai ad andare lì sopra? Eh lui dice Dice Lascia giù lui Salta da parte Lui Mi segue Ma ce la fa saltare dall'altra parte Lui così Ma dai ma che brutto Non è come su Trilas Fusion Che ti puoi lanciare Ma poverino Ma magari dopo lui ce la fa Ma cosa in mille pezzi ce la fa E beh Guardalo guardalo Sacrifice No non ce la faccio Sacrifice Oddio Non ce la faccio Faccio io Fammi te la parte Non ce la faccio Non posso farcela Non posso farcela Che sono senza cuore Eh così mi tocca ancora a me Mi sta bene Bisogna farla esplodere in qualche altro modo No non posso farla morire Dai è strabello Come avere un animale da compagnia No io ero Va bene Ucidiamoci La prima volta a saltare Eh ma non 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 Almost I feet Dai Bene ragazzi Noi ci vediamo domani con la recensione Mi raccomando come sempre commentate Condividete Iscrivetevi a questo canale fantastico Cioè il nostro E noi in sella al nostro dromedario del canyon Ci salutiamo E una buona giornata a tutti quanti Ciao Tu perché fai queste cose poi Ciao